ciao ermanno qua ti mando sto saluto dalla mitica mondello perché so che tu la conosci però un favore questo video che ti mando fallo vedere anche a renato che lui la conosce pure mondello e comunque di nuovo l'invito viene qua a palermo il manno perché è una meraviglia una città favolosa una città stupenda dove è ricca di cultura di spiagge è bella è bella si mangia bene a parte che tu mangi un uovo perciò la cosa di interesse della tipa però viene ermanno un mese a palermo ti allunga la vita di sette anni e dovevi morire a 100 anni muore a 107 perché è bella 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 adesso ciao da palermo adesso questo è il mio amico mio compare salvo che ti saluta ti salutiamo entrambi e rifletti a pervenire aspettiamo a palermo che aspettiamo ciao 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 e buona domenica